La capillarità sul territorio è fondamentale, è una chiave di lettura che ti permette di arrivare in tutte le tabaccherie. L'obiettivo che ci siamo prefissati da qui ai prossimi anni è quello di riuscire a raggiungere 40.000 tabaccherie direttamente attraverso la nostra rete vendita. Un partner in Ida oggi trova sicuramente un'azienda moderna che riesce a dare degli strumenti non solo di vendita ma anche di gestione del parco clienti, quindi avendo una segmentazione della nostra clientela molto molto dettagliata riusciamo a fornire gli strumenti necessari per poter raggiungere i clienti focus per quel determinato prodotto e nelle tabaccherie che il nostro partner potrebbe appunto scegliere per iniziare una collaborazione.